Salve a tutti, bentornati in un nuovo video di Pokemon Oggi apriremo finalmente la nuova espansione che è uscita Un box intero Ecco qua la nuova espansione Il box della nuova espansione che abbiamo preso Yeeeh, 36 bustine Ah, non avete visto il video in real? Prima o poi uscirà Come se avessimo comprato un box E avessimo riscattato i giochi Vai, Bonfi, dato che l'hai poco fortunato Visto che queste buste le ho accumulato tutte io Facendo tutti i tornei, facendo tutti gli scambi Io le aprivo Esatto E anche perché sono più fortunato Siamo sinceri Vada, vada Diciamo solo che nell'aprire le buste in più Ho trovato una Ibis e su Irene Furat E io l'ho data via Vediamo Yeeeh, wow Comunque se raggiungiamo Facciamo 30 mi piace e arriviamo E questa calta Bella, bella, anche bella È l'altro caso preferito Sì, mi piace un sacco Molto bene Sono faccioccoli Poi io devo far vedere un mazzo con tutti i retto cocco E gli metterla per vicino Sì, sì, dopo lo faremo vedere anche in video Comunque, stavamo dicendo Mi stai interrompendo due o tre volte oggi Non è colpa mia, è colpa di questa calta? Niente Ah, invece questo è per il tuo mazzo Questa calta? Niente No, forse è di questo Ma è normale Sembra tipo Boh Stanno Hai detto Cricatune? No Cricatune è staniscio Se hai esattamente una calta in mano Quest'attacca infegge 100 danni in più Se hai esattamente 3 calta in mano In programma attiva L'attacca infegge 100 danni in più Se hai esattamente 6 calta in mano Quest'attacca infegge 30 danni C'è un po' come nella panchina del tuo avversario Carino È cattivissimo Vai, finisci il tuo discorso No, niente Volevamo dire Se arriviamo a montare un tot di mi piace E entro fine Cosa diamo? Contro fine sta settimana Sì Sì Entro fine a settimana Sì Cioè quando uscirà un altro video di poco Una settimana Sì Vi regaleremo 10 codici a estrazione Che si scrive Non lo so Boh può essere Però Il problema di evolution Secondo me Non è tanto che Giri Bella Che merda No mi piace l'Arthur Non può dire che è una altica È una capa peggiore delle sette Dai Cosa fa di abilità? È una merda Ciao Dio Prende il gioco Ancora Quante versioni Non è Non è faltissimo Anche perché C'è comunque La bambolina è bellissima A me piace In certi mazzi Che devi caricare così Un'altra Vabbè Eh vabbè Cazzo peggiore del set Giustamente Che fai in un trada In due pera Trada anche in cinque pera Adesso guarda Mi dà anche la fulata Dai con un euro Guarda Pietro peccatura Quella è carina Sì sì Un mazzo di consul Si gioca Di buzzword No di buzzword Di naga naga Dare e di cosa Ah quello lì Di grassuola Di grassuola È bello Come a sta bello Perché tipo È un endrock Praticamente te Controlli Se parti bene Controlliamo L'elettromosalio Sì sì Ah comunque Nei prossimi video Faremo vedere Le mazze Adesso Te li studiamo un attimo Ci stiamo un po' Il meta che diventerà E vediamo come diventa Se volete scriverci Nei commenti Da portare Volentieri C'è un mazzo basato Su Quello mi sa Quello monteremo Qui te lo farò vedere Bellissimo Il mazzo Lui è interessante Perché Lancia una moneta Se esce testa Metti dei segnali Di danno Su poco monete Ficché non Rimane 10 10 ps E c'è Pino Mi dice Meschiami Tipo È un aiuto Che dice Quando un attacco In cui gli lanci Una moneta La prima volta Esce sempre testa Ah carino È da provare È da provare Praticamente Lasci tutti I pokemon Un solto Poi con un'ara Del giudizio Gli dai Quindi grazie Da provare Quindi secondo me C'è la fuori serie Andiamo Bello Bello No è brutto Non è Mi piace l'alto Bello perché mi piace l'alto Non L'effetto lo so No fuori serie Nel senso Anche alta Fu l'alto Sì sì Comunque Dai Se arriviamo a 1000 Entro sto mese La massima potenza Regaliamo 100 No 50 50 codici De la nuova Un box 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 Noi E le carte Se ne teniamo I codici Diamolo Sì Ovviamente Mach De la roa Che fugano In milioni Bellissima come arto Non l'avevo ancora vista Tante cose Cioè Queste espansioni Secondo me Ha cambiato Molto Sì Arrivalo Di tutto Anche perché Ci sono Queste carte Qui Fu Inse Questa è carina Cioè Leggi L'effetto Del Secondo Attacco Del primo Attacco Scusa 50 danni Per ogni Tela giochi Infatti L'hanno Ristampato Anche il Forse Siconosciuto Siamo A poco Meno A poco Più Di metà Box Siamo Poco Meno Scusate Eccolo L'ho chiamato Ci serviva Nel mazzo Pensavi di metterla Con 5 energie Fa 180 E puoi giocare Nel tuo mazzo Fionato Rack Altre Aggiungere Rack Altre Che hai in mano E poi Con un Gex Fa Segna Piacimento Al tuo Pokemon 5 Calte Energie Basso Dalla Trapare Degli Scalti Se questo Pokemon Ha Almeno Un Energie Extra Segnato In aggiunta Quella Costa D'attacco Il Pokemon Attivo Il Trovo Versaglio Venero Verenato E' Confuso Bello Venga Bruciato E' Confuso Scusate Questo E' Bello Questo Sono Anche Solo Per il primo Mazzo Potrebbe Sostituire Il Charizard Nel Mozzo Mio Mio Tu Ok Con 4 E Il Gex Fa C'era 300 Si Si Non puoi Mettere Massimo 1 Perché Tanto Te Iniziamo Ufficialmente Esca La metà Del box E' Molto Barro Quello 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 Quella Terreno La C'era Sgavitazionale La Questa Carta Comune Venere A 5 Euro 5 Euro Si 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 Davvero Forte Si Io Ho Già Visto Giocare Più Volte Penso Sia Una Della Carta Migliori Quando Hai Tipo Quelle Carte Che Quando Te Non Usi Non Ti Sia Uno Stadio Giochi Quelle Si Perché Lui Deve Giocare Due Stadio Per Toglierti Quella Cavolo Con Sto Meta Ci Sono Tanti Che Non Abbiamo Trovato Fuori Serie Ah Adesso Devi Cardurare Fuori Sia Qui Dico L'altro Giorno Mi ha Trovato Un Botta Questo Kaino Questo Pogamon No Deve Due O Mino Cante Premio E Poi Con Due Nelgie Fa 170 Scalto Un Nelgie Segnate No Perché Se Vai Sotto Te Ecco E Bellissimo C'hanno Della Seconda E Cosa Fa Di Effetto Scusa Congiura C'è C'è Nel Tommaso Fino A Due Calt E Calt Calt Che In Mano E Contra Energy F 110 Questo Carino La Potresti Locale Al Ti Da Un Premio Meno Proprio Una Calt In Meno C'è Un Project Nel 3 Bella Anche Questa Invece Nel 2 Bella C'è Sono Bellissime Start Sì Sì Ma Piacciano Saranno Solo Non So Se Si Giocheranno Meno No Oddio Il Pikachu Si Carta We Bonfer Tanto Un Altro Parleranno Un Pacchetto Penso No Non Vaglio Niente Questo E' Bello Perché Sei Una In Gioco Subisco 50 Nani Meno Quindi Sei Tutte Due In Dago Si Usa Nel Mazz Rashi Zeklom Scalte Le prime 6 Kalt E Assegni L'energia Base Ai tuoi Dago Oppure Si Gioca Anche Un Monocopia Nel Rashi Ammichal Zal Con Taltunator Ma Perché Così Assegni Dago Non E Comunque Sempre Un Drago E Poi Taltunator Fa 50 Nanni Scalta Un Energia Da Un Poco Fa 50 Nanni Sì E Molto Forte La Dunator Fuoco Si Molto Molto Forte We Wired Quante Buste Mancano Ultime 6 Buste Si Nii Dai Mi è andata Speravo In un Hyper Diverso Onestamente Cioè Tra tutte Hyper Non Coso Penso Snihly Dai Per favore No Ma Almeno Dacci Un Rashi Chiamere Ezeko O Sennò Anche Un Coso Un Snihly Anche Snihly C'è carino Weezing Bello Che bella Artwork Dai E' bello Si Questo E' bello Bello Andrà Un po Ultime Tra pacchi Me Lasci Una Da Prima No Dai Va bene Almeno Un Vai Per questo Ultimo No Ultimo Proprio L'ultimissimo Ok Quindi Vuole Che Io Lo Tra In questo Pacchetto Per non Fatti Quella C'abbiamo Anche Sì Vado Vediamo se Porto almeno Culo L'ultimo Pacchetto Quale Vuoi Che Ti Apri Prima No 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 Mi fai In ordine Giusto Niente Niente Dove cazzo Stai Mi scusi Vabbè Con questa Diciamo Un bottino Che abbiamo trovato Chiudiamo il video Caldo di me Esatto Noi vi salutiamo Doviamo fare qualche Scambio Cerchiamo di montare Mazzi Belli Di questa Esplosione Ciao Ciao